Fermiamolo! Dov'è finito? Eccoti qui! Meglio allontanarsi! Non sei abbastanza bravo! Sei veloce! Ma posso benissimo prenderti al volo! Carta Tornado Rotante! Tornado Rotante! Attivati! Ottimo! Ragazzi! L'ho trovato! Iopi! Come mai fate tanta fatica? Vuoi sapere perché? Perché i vostri attacchi sono inutili! Che rabbia si muove in continuazione! Sorpresa! Visto che siete così lenti, non scapperò più, promesso! Ehi, mostro! È presto per cantare vittoria! È arrivata Emma! Scusate, ero bloccata in cucina! Ma ora sono pronta a fare arrosto a quel mostro! Sì! Dolcetto scherzetto! Adesso elimino questo insetto! Vedo che fai sul serio! Ma resterai di bocca asciutta come i tuoi amici! Che cosa? È avanzata della farina! Sarebbe un peccato sprecarla! Questa è per aver rovinato Halloween! Adesso fischiamo bene il tutto! E poi... Lavoriamo l'impasto! Ci siamo, ragazzi! È quasi pronto! No! Wow, 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 wow! Sì, è cotto! Emma, sei fantastica! Meno male che sei arrivata! Appena in tempo! Ottimo lavoro! Fiamme della felice! Anche se oggi Halloween non ti permettiamo di spaventare la gente! La Terra difendiamo! E mai ci avveniamo! Carta dei fratelli del cielo! Attivati! Convocazzone! Zord Ptero! Zord Falco! Zord Fenice! Zord Drago! Zord Corvo! Raffinata il cielo! Ma che succede? La... Non riesco a capire! Hanno messo le radici! Savoroso! Squisito per il mio palato! Che festa fantastica! Ah, sì! Voi dovete essere i rangers in cui ho sentito parlare! Cosa hai fatto a questa gente? Ho solo mangiato gli inutili sogni di quegli inutili umani! Che cosa? Tutti mi chiamano il mangiatore di sogni! Normalmente il Dream Snatcher mangia i sogni quando la gente dorme! Ma il mio potere è cresciuto con l'Aurora Box! E adesso posso mangiare i sogni anche quando le persone sono sveglie! I loro spiriti sono imprigionati nel mio mondo di sogni oscuri! E non ne usciranno mai più! L'Aurora Box! Quindi Vrak ha una nuova arma! E non è ancora tutto! Dopo che ho mangiato i sogni, dai loro corpi nascono le radici della disperazione! Radici che presto distruggeranno la Terra! Dopodiché tutti gli umani scompariranno e questo mondo diventerà nostro! Dobbiamo cercare di aiutarli! E adesso, adios, muchachos! Non potete far nulla perdenti! Perdenti, eh? E tu pensi che ti permetteremo di distruggere la Terra? E portar via i sogni della gente? Olè! Io mi sento un matador! E adoro la grande corrida! Ah ah! Olè! Ah! Olè! Ah 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 ah! Olè! Colpitelo! Punto stress! Io sono il mui forte! Infatti sono così forte che inciamperete su le radici di tutti i sogni spezzati degli umani! L'Aurora Box è lo massimo! Vamolo! Su, andiamo! Bersaglio ostile neutralizzato! Quagli! No! Siamo felici di vederti! Non va affatto bene! Quelle radici danneggiano seriamente la Terra! È quel mostro che le ha create! Dopo aver divorato i sogni di molta gente! I sogni? Cosa sono i sogni? I sogni sono ciò che gli umani desiderano e in cui credono! Sono le mete che ciascuno di noi spera di raggiungere! Per esempio, uno dei miei sogni è di fare delle sensazionali foto della pioggia di meteoriti che ci sarà stasera! Davvero? È tutto qui ciò che desideri! Non ne hai di più interessanti! Non penso che i sogni possano essere troppo piccoli o troppo grandi! È il zappo mondo! Sono sicuro che i tuoi sogni saranno delizio! Odia! No! Emma! Che buono! Squisito! Ho divorato il suo sogno e adesso lei dormirà forse! Emma, svegliati! Sono abbandonati! Emma! Mi senti? Ci siamo ragazzi! Facciamola finita! Super Mega Colpo Finale caricare! Mega Timing! Combinezioni! Mega Force Blaster attivato! Carica per il toglie di lancia! Super Lancia Blaster! Sì! La battaglia leggendaria! È tutto merito dei nostri nuovi amici! Andiamo! Non sappiamo come ringraziarvi! No! Grazie a voi! La terra è di nuovo salva! È stato un onore combattere al vostro fianco! Bene! Ora noi dobbiamo andare! Ma saremo sempre con voi! Grazie! Grazie a tutti! È davvero finita! Sì! 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 Ehi, guardate il cielo! Con tutte quelle astronavi dell'armada, avevo dimenticato quanto fosse blu! Sì, è bellissimo! È incredibile! L'imperatore è stato eliminato! Caspita! Non pensavo che sareste tornati! Per la verità, non pensavo neanch'io! E adesso? Andiamo a casa! E vai! Sì! Direi che questa giornata non potrebbe andare meglio di così! Venite, ragazzi! Forza! Addosso! Adosso! Traffica dello squalo! Beccatevi questo! Traffica del serpente! Traffica della tigre! Traffica della felice! Traffica del drago! Ottimo lavoro, ragazzi! Vi schiaccerò! Distruggiamo quella palla! Vi state mega forzando a rigettare il pranzo! Com'è possibile? Ricorriamo alle mega armi! 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 Attivarmi! Conosco anch'io qualche attacco interessante! Incursione aerea! Colpo della felice! Spada del drago! Spada del drago! Bravi! Così si fa! Ehi! Aspetta! Veleno di serpente! Artegna di tigre! Morso dello squalo! E ora sfoderiamo il nostro megapotere! Unione! Comandatore a mega forza! Potere del cielo! Energia! Potere della terra! Energia! Potere del mare! Energia! Comandatore a mega forza pronto! Carica per vittoria dinamica! Mega rangers! Che mega vittoria! Power rangers! Power rangers! Miniforce! Power rangers! Power rangers! Vorrei parlare un momento con te! Essendo tu un'entità razionale, mi sembra doveroso farti presente un particolare che riguarda i tuoi stupidi amici umani, i Power Rangers! Ricorda che ai loro occhi tu sei solo una macchina! E cosa fanno gli umani quando si rompe una macchina? La buttano via! A loro interessi solo finché sarai utile! Sei nella squadra sbagliata, ma sei ancora in tempo a unirti a noi! Tocca a te scegliere! Abbiamo poco tempo! Liberiamoci di questi mostriciattoli! Ultra Zog, attirateli! Modalità Ultra, attivati! Modalità Ultra, trasformazione! Modalità Ultra, pronta! Ultra Potere! Colpo dinamico! Oh no! Ce ne sono altre! Facciamo pronto! Mancano solo pochi minuti! Ma sì! Combattete pure se volete! Tanto il tempo sta per scadere! Sordione, trasformazione! Robo Knight! Perché detesti gli esseri umani? Perché? Semplicemente perché sono esseri inferiori! Creature inutili che vanno eliminate! Il pianeta non è abbastanza grande per ospitare i robot e gli umani o loro o noi! E comunque nessuno sentirà la loro mancanza! Anche se ci sarà una sola vittima tra gli umani le persone ne sentiranno la mancanza e soffriranno! Per me i loro sentimenti sono privi di qualsiasi valore! Robo Knight! Perchè lo proteggete? Perchè? Noi proteggiamo chi è in pericolo! E sarà sempre così anche se regnerà il caos! Nei momenti di grande difficoltà! Noi umani reagiamo e ci proteggiamo a vicenda! Perchè la vita di ognuno di noi è in pericolo! Perchè la vita di ognuno di noi è in pericolo! E ora godetemi questo! Dai certo! E questo suono mi spacca il cervello! E' fastidioso! A me sembra solo un po' forte! Sì, dà fastidio, ma è sopportabile. Forse voi siete abituati a questa musica. Forza! Dovete andare in un posto sicuro. Non potremo sopportarlo ancora a lungo. Smettila con quel fracasso! Sto zitto, non dirlo mai più. Io sono il più grande musicista dell'universo! Che cosa? Nessuno può farmi una cattiva recensione. Lugino, attaccate! Gente, continuate a scappare! Non fermatevi! Muovetevi! Via! Veloci, veloci! Correte, qui ci pensiamo noi! Lughi, date una bella lezione a quegli incompatenti! Questa musica odiate? Ora imparate per l'offesa che mi fate e il prezzo che pagate! Aspetto di guerra, attivati! Aspetto di guerra, attivati! Questa canzone non mi dà fastidio come quella di prima. E invece sembra che loro ne invigoriscano! Meglio fermarli prima che i loro poteri aumentino troppo! No! Provate questo! Ce l'hanno con me! Emma! Ti copro le spalle! Presto! Non ce la faccio più! Resisti, Troi! Sai bene? Ma che mi succede? Piccoli sciacchi! C'è una cosa che dovete sapere! Non si può vincere della musica! Il potere! Ragazzi! Il bombardatore a megaforza! Sì! Cercate di resistere! Unione! Bombardatore a megaforza! Sì! Facciamola tenita! Carica per vittoria dinamica! Oh no! Troi! Cosa ti succede? Mi dispiace ragazzi! Grazie! E adesso con grande piacere che qualcosa di veramente speciale da parte mia vi farò vedere! Vi devo finire! Adversi! Oh sì! Vi ringrazio Rangers! Il potere della mia musica vi ha sistemati! E adesso è il momento di usare il rock'n'roll su molti più umani! Ragazzi! Troi! Ci è sfuggito! Ma lo prenderemo tranquilli! Ragazzi! Facciamo presto! O coinvolgerà altra gente! E' stato solo un colpo di fortuna! Penso che il suo metodo sia molto efficace, Kripox! E' troppo pieno di sì per avere successo! Ecco perché voglio che vada anche tu, Vrak! Ricordami sempre che deve distruggere quei Rangers! Manderà Vrak invece di me, ammiraglio? Come mai? Il comportamento di Discord deve essere gestito col ragionamento, no con la forza! C'avrà bisogno di colpire duro, Manderotti! Ma per ora mi serve Vrak! Modalità Super Mega! Ma che cosa? Ehi! C'è un problema! Che succede? I Morpher non funzionano! Ottimo spirito di osservazione! Ho disattivato la modalità Super Mega! Oh no! E come? I Rangers leggendari non possono più aiutarvi! Ho trasformato in pietra le vostre chiavi! Ridurrò il vostro pianeta a un colabrodo! La prima trivelle è già in posizione! Presto ne seguiranno altre due! E non contate sulla presenza del sesto Ranger perché è mio prigioniero! Non è possibile! Lui è la fonte di energia aliena a cui accennavo prima! Preleverò tutta la sua forza vitale finché non sarà altro che un guscio vuoto! Presto assorbirò tutta la forza vitale del vostro amico Silver Ranger! Ha catturato Orion! Non è possibile! Oh no! La vostra reazione mi riempi di gioia! Cosa pensate di fare senza la modalità Super Mega? Ti abbiamo fermato in passato e lo faremo ancora! Buon mandato! Buon mandato! Buon mandato! Buon mandato! Pronto! Quell'arma non può farmi nulla! E ora ve lo dimostro! Provate con qualcos'altro! Voglio annientare tutte le vostre speranze! Non ci arrenderemo mai! Balestra dello squalo! Colpo della felice! E va bene! Ora vi annienterò! Ti sbagli! Tu non distruggerai la Terra! Parole al vento! Vedrai se sono parole al vento! Incursione aerea! Visto? Che vi avevo detto? Sì! Dovete soffrire! Sei forte, Brack! Ma abbiamo un pianeta da proteggere! Quindi sta pur certo che vinceremo noi questa battaglia! Siete davvero fastidiosi voi, Rangers! Come degli insetti che mi ronzano attorno! Sai che fine fanno gli insetti? Abbiamo tolto di mezzo i tuoi amici Kripox e Malcor! E faremo lo stesso con te! Risposta errata! Droid! Pensate a voi stessi! Anche perché state per fare la fine del vostro patetico capo! Basta! Smettila! Decido io parlo smettere! Il potere è il mio destino! Vi do subito una dimostrazione della mia forza! Dobbiamo concentrarci e trovare il modo di fermarlo! Ho deciso di lasciarvi ancora in vita, Rangers! Voglio vedervi soffrire durante la sconfitta! Rico! Non siamo tuoi nemici! Sono io, Emma! La tua amica! Ricordi! Rico! Va tutto bene! Nemico identificato! Vemico identificato! Nemico identificato! Emma! Non funziona! Dobbiamo attaccarlo! È un peccato, ma... Non abbiamo scelta! Non abbiamo scelta! Anomalie in R1-C0 è eliminate! Ora è imbattibile! Non vorrei distruggerlo! Anche se lei ha cancellato i suoi ricordi, è pur sempre un nostro amico! Ma come possiamo aiutarlo a ricordare? Non so se è possibile! Dobbiamo studiare un altro piano! C'è solo un modo per poterlo fermare senza distruggerlo! Dobbiamo eliminare quel sensore che è installato nel suo petto! Giusto! Jake, Ghia, dovete attaccarlo e tenerlo impegnato, ma state attenti! D'accordo! Sono pronto! Pronta! Andiamo! Faremo esattamente come prima! Emma e io creeremo il tornado! Troy, tu lancerai l'attacco fulminante! Ehi ragazzi, che cosa aspettate? Presto, non possiamo resistere per molto! Robo Lava! Questo è il momento! Aspetta! Come? La responsabilità è mia! Lo farò io! Noi lo teniamo! Molto bene, Pink Ranger! Fa quello che ti senti di fare! Ma sappi che potrebbe non restituirgli la memoria! Lo so! L'importante è salvarlo! R1C0 è ancora più forte di quanto mi aspettassi! Per prima cosa lo congelerò! Carta scura di ghiaccio! Attivata! Fate in fretta! Rimarrà congelato solo per pochi secondi! Tempesta di mare! Attivata! Tornado rotante! L'ha attivato! Emma deve colpire quella minuscola apertura! Proprio così! Ma con la sua infallibile mira non avrà problemi! Fallo, Pink Ranger! Non esitare, Emma! Rico! Posso farcela! Attacco fulminante! Attivato! Eseguito! Eseguito! Centrato! Emma! Sì! Ce l'hai fatta! Ha funzionato! Super Lancia Silver! Voglio che questo mondo abbia una sorte migliore del mio! Sfortunatamente per voi, io sono vivo! Devo dire che combatte in un modo pazzesco! Sì, hai ragione! Mi hai sconfitti da solo! Agli altri pensateci voi! Ma dove va? Chi pensate che sia? Un tipo fantastico! Avete visto? Chi? Cosa? Un Silver Ranger? Gorgax sta fallendo miseramente! Ha bisogno di più potenza con questa nuova minaccia! È probabile! Levira! Questo è il tuo lavoro! Devi intervenire! Rendilo più forte! Non preoccuparti! Gorgax ha un'arma segreta! Non è ancora finita, Rangers! Ho una sorpresa che vi farà rimanere impiattruti! Davvero? Ma non sei solo! Dobbiamo trasformarci! Giusto! Diventiamo leggendari! Modalità leggendaria, Rangers! Los Galaxi! Diventiamo galattici! Stai bene? Tutta qui? Venite! Vi voglio dare un colpo gratuito! Trastagher! Cosa? È una specie di campo di forza! Non un campo di forza qualsiasi! Questo blocca tutto ciò che mi si avvicina! Anche usando la vostra massima potenza non mi potrete mai colpire! Ma noi non ci arrendiamo! Prendiamolo! La determinazione di questi Rangers è notevole! Ma anche quel campo di forza non sarà facile superarlo! Non sarà facile superarlo! Ragazzi! Forza! Attacchiamolo! Tutti insieme! Non ce la facciamo! È troppo potente! Adesso mi ha veramente staccato! Lo sistemo io! Doro! No! No! Fermo! Siamo! 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 Muoviamoci! Il campo di forza è caduto! Ma io sono ancora in piedi! Ora devo ritirarmi, Rangers! Ma sappiate che la prossima volta vi distruggerò! Potevamo sconfingerlo, ma come ha fatto a disattivare il campo di forza? È arrivato! Dobbiamo farlo entrare in chiesa! Prendimi in braccio! Baciami! Sono al massimo della felicità! Ci siamo! Adesso! Spara la cintura! Bel colpo! No! La mia cintura! Brava! Ottima mira! Grazie! Ora puoi mettermi giù? Oh, sì! Così non è giusto! Non posso più cambiare dimensioni! Tra poco avrai dei problemi molto più gravi! Non fermerebbe la mia missione! Passione! Vado ad assorbire altra felicità con il mio bastone! Andiamo! È sparito! Hai sentito cosa ha detto? Prendendogli il bastone riavremo la felicità rubata e potremo restituirla alle vittime! Ma come facciamo? Mi è venuta un'idea! Rubare la felicità delle spose è complicato! La toglierò alle persone che incontro! Così potrò andarmene da questo pianeta! Sei felice! Sei contenta! Puoi cantare! Se sei allegro puoi anche ballare! La ragazzina sembra felice! Vince! Vincete! Sì! Ecco, tieni questi! Oh! Non d'accordo! Il suo trucco sta funzionando! Devo fare una fotografia! Io ti tengo questa! Lascila! È mia! La felicità che contiene! È mia! È mia! Senti bene? Sì! Ma perché mi gira la testa? Sali sull'ambulanza! Buona idea! Su, dammi il bastone così sei più libero! Un momento! Siete mai! Grazie per il passaggio! Ma vai! Ah! Che ingenue! Non puoi rallentare! Vieniti forte! Emma, il tuo piano mi sembra un po' pericoloso! Qualche problema, gente? Auto 8165, rispondete! Auto 8165, siamo... Getta quel bastone e mani sulla vettura! Va bene, va bene! Un momento! Siete ancora voi! Ci vediamo, perdenti! È scappato di nuovo! Aspetta! Senti anche tu! È nel parco! I bambini felici! Ho un terribile presentimento! Caspita! Che forte! Che cos'è? Guarda! Guarda! È il crudale! Finalmente ho la cura per il principe! E quei Rangers dimenticheranno che cosa significa essere felici! Perch несi che cosa si sa calma! Chi èNA web! Grazie a tutti.